Siamo qua a festeggiare il centenario di un nostro concittadino Giuseppe che oggi compie appunto 100 anni è ricoverato presso una struttura, colgo l'occasione anche per ringraziare la struttura Messina che ospita questi nostri nonnini e li fa sentire a casa stavo dicendo un centenario, un partigiano quindi abbiamo un pezzo di storia che ha combattuto con gli altri per la libertà e per la democrazia cosa dire, io come primo cittadino non posso che fare tutti i miei auguri e portare gli auguri da parte dell'intera collettività e ringraziare ringraziare perché appunto è un nostro nonnino che ha dimostrato di avere il senso di appartenenza la sua identità è netta appunto essendo stato un partigiano e se siamo oggi liberi e se siamo in democrazia è anche grazie a lui Incontro per la prima volta quello che poi sarebbe diventato mio suocero nel 1991 ho subito l'immagine di una persona che ha conosciuto tante esperienze nella vita esperienze che lo hanno anche segnato perché comunque è cresciuto senza un padre una figura forte ma al contempo dolcissima un nonno meraviglioso per le mie quattro figlie e per l'altro nipote figlio di mio cognato oggi la tenerezza è maggiore perché è stato bene, benissimo fino a 98 anni sta ancora discretamente ma inizia a non riconoscere fa ancora più tenerezza però il fatto che riesce ad emozionarsi come un bambino e stasera anche per la presenza di tante persone a cui non è più abituato era commosso doppiamente è una festa che mi riempie e che me lo fa sentire ancora vicino come un secondo padre quello che per me è stato